Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Minecraft, ma nella vita reale. Io sono Bart e bentornati. Allora, nello scorso video avevo detto che sarei partito l'esplorazione e avrei cominciato come se fosse un vero mondo di Minecraft, a giocare davvero. E infatti, guardate che regalo vi ho fatto. Non vi ho fatto vedere tutta la stacca che ho fatto perché sinceramente era un bel po' nerviosa e quindi ho fatto partire il video quando ero già quasi arrivato. Sono partito l'esplorazione per trovare nuove cose in Minecraft, ma nella vita reale. Allora, non so se voi vi ricordate, pochi si ricordano, solo chi mi segue dall'inizio del canale. Dov'è che siamo? Dai, non è tanto complicato. Vi lascio dieci secondi per pensare a dove siamo. Vi faccio vedere. Allora, io ho contato fino a dieci e il tempo è scaduto. Credo che ora tutti avrete capito dove siamo. Già qua, questo, solo questo, vi potrei ricordare il video la notte di Halloween con il mostro che usciva da lì. Infatti, siamo alla nostra vecchia casa. Sono ritornato qua. Lì dove avevamo trovato il fungalizzo del canale. Ed eccoci qua. Andiamo, dai. Allora, finalmente siamo andati. Non so com'è, credo che non ci sarà più molto, però siamo qua anche per prendere tutte le robe che c'erano nella vecchia casa. Per portare la nostra nuova, perché ormai è quella la casa nostra. Allora, qui sono cresciute molte piante di Minecraft. Sono quelle che ti pungono. Guardate quante spine di Minecraft. Quindi, casa nostra era proprio là. Mi ricordo. Là. Ecco. So che... Non so se ce la faccio. Però per voi. Io supererò tutto questo. E arriverò alla nostra vecchia casa. Per prendere tutto. Allora. Cerco di tirare giù le piante con i passi. Perfetto. Ce l'abbiamo già fatta. Siamo stati bravissimi. Saliamo. Perfetto. Eccoci qua. Alla nostra vecchia casa. E' ancora come il primo. Nessuno l'ha toccata. Prendiamo tutto quello che ci serve. E che ci ricordiamo. Eccola qua. La nostra spada in neve vite. Finalmente. Che avevamo trovato all'inizio del canale. Nel tesoro. Andate a guardare i primi video. Oppure magari non mi seguivate ancora. Andate a guardare. E questo è il nostro piccolo. E questo è il nostro piccolo. Bene. Andiamo avanti. Ed eccoci fuori. E abbiamo le nostre due armi. Perfetto. Non armi. Un piccolo in legno. Un nostro vecchio piccolo in legno. E le nostre spade in neve vite. Dato che non la vorrò usare tanto. Questa spada. Appoggiamola qui. Che dopo la riprendiamo. E cerchiamo un po' del legno. Per vedere se ne possiamo fare un'altra. Ma tranquilli. Me la faccio off camera. Ok. Non sai andare a cercare il legno. Farsi. La faccio off camera. E dopo il prossimo video la faccio vedere. Guardate che bello. Il bambù. Di minecraft. Vi ho trovato un bambù spesso. Questo qua è uno di quelli alti. Questo qua è uno di quelli bassi. Perfetto. Bene. Prendiamo il nostro piccone. E la nostra spade in neve vite. E. E incamminiamoci. Alla ricerca di nuove cose. Per esempio. Potremmo cercare del ferro. Ho visto male. Avete visto anche voi. Guardate qua. Del ferro. Perfetto. Ne prendo uno. Ci servirà proprio solo uno di ferro. Perché avevo intenzione. Di farmi uno scudo. Ce lo facciamo in questo episodio. Allora. Ne mettiamo nell'inventario tutto. Perfetto. E ora. Bene. Io nel mio inventario. Guardate. Ho preso pure una sugar box. Che ho trovato. Così. Allora. Nella nostra sugar box. Apriamo. Perfetto. C'è un po' di legno. Perfetto. Allora. Ho preso il legno. Ok. Perfetto. Mettiamo. Nella carta interna. Un po' di legno. E il pezzo di ferro. E. Vi faccio vedere. Tre. Due. Uno. Ed eccoci qua. Abbiamo creato. Il nostro scudo. Guardate che bello. Così ora. Potremmo andare in giro. Più protetti. Perfetto. Rimettiamolo. Rimettiamolo. Nella nostra sugar box. Mettiamo. Nella nostra sugar box. Perfetto. Lo prendiamo dentro. È più complicato. E' più complicato uscire. Nel sugar box le cose. Mi manca solo una vita reale. Perfetto. Chiudiamo. E. Ora abbiamo anche uno scudo. Ce lo porteremo a casa. L'abbiamo fatto molto bene. È bellissima. Perfetto. Chiudiamo. La sugar box. Mettiamolo. E andiamo. Da questo video è tutto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao.